sono arrivati i sensori del parcheggio della tema apriti e vai eccole andiamo apriti dai che gliele portiamo subito i sensori della tema eccoci portiamoglielo gianmaria gianmaria eccolo il sensore del parcheggio della tema apriamolo subito che sono curioso fresco fresco di ritiro dieci giorni per arrivare speriamo bene sono costati due lire ci sono ho fatto finta ci sono com'è com'è aspetta vediamo com'è guaio com'è minchia due fini invece che tre è diversissimo come il mio un signore diverso no e adesso fammi farvi vedere anche i ragazzi poggio qua ma non c'entra niente con quelli poi hanno tre connettori a tre connettori questo con i connettori già due o signore sembra uno cioè no uno fuori uno dentro l'interno un jack un jack quindi per avere la continuità devi trovare un senso e non è modificabile questo qua no 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 di sicuro bisogna trovare una macchina che ha l'adattamento ma io me li faccio rimborsare gli rispedisco indietro teniamo tutto buono si teniamo tutto buono richiudiamo tutto capito ragazzi non vanno bene sti sensori del parcheggio glieli rispedisco indietro però adesso bisogna cercare di trovarli la macchina è quasi pronta non ne usciamo più mannaggia california california no sign of party california california una